Ci stiamo finalmente avvicinando alla 4.3 di Genshin Impact e abbiamo adesso le informazioni un po' più aggiuntive su Navia. Le vediamo insieme. Ciao ragazzoli, benvenuti in questo nuovissimo video e sul mio canale. Io sono David Zabumbi, vi ringrazio per essere qui perché oggi parliamo del personaggio di Navia. Ovviamente non nel totale, però possiamo avere una pre-analisi e cominciare a pensare un pochino come funziona. Perché oggi la Oioverse ha pubblicato su OioLab la descrizione, diciamo il post descrittivo proprio di Navia. E quindi adesso lo andiamo ad analizzare insieme. Prima di andare avanti, se ancora non l'hai fatto, mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così non vi perdete i miei prossimi video. Inoltre, vi aspetto anche live su Twitch, oggi giovedì guardiamo anche le vostre analisi build. E poi vi aspetto anche su Instagram dove trovate altri contenuti molto interessanti. Oggi parliamo di Navia, quindi cominciamo a vedere. Navia per tutto esteticamente, beh, questa immagine è tipo bellissima, hanno creato un bel personaggio, esteticamente è un grandissimo personaggio. Abbiamo i materiali. Allora, i materiali io immaginavo che avessimo questo qui, perché l'altra volta Live dissi che a livello di estetica questo era il pezzo che più si adattava a un personaggio del genere. Se vedete i colori e tutto, ho pensato che questo si adatta perfettamente a lei. E immaginavo anche questo qui, mentre invece questi non li conoscevo. Questo qua è il materiale che si ottiene dal boss, l'ultimo boss uscito, il balenotto gigante. E questi qua dovrebbero essere dai nemici acquatici, cioè nemici quelli là, insomma, le creature dell'acqua, le creature marine. Questi qua, non mi ricordo che già non ci stanno, però alla fine li trovate tranquillamente. E questi qua li ottenete dai personaggi, dai nemici geo, principalmente dai boss geo. Allora, abbiamo la descrizione dei suoi talenti. Ovviamente, ragazzi, come vi dicevo, non è completa. Abbiamo l'attacco normale, avremo sicuramente l'altripudio e l'abilità elementale. Non so se abbiamo tutti i passivi, sicuramente non abbiamo le costellazioni, però ci cominciamo ad accontentare di quello che possiamo vedere. Per quanto riguarda l'attacco normale, ovviamente possiamo sferrare fino a quattro colpi consecutivi, molto belli esteticamente. Classico attacco caricato, quando fa l'attacco caricato, fa questo attacco vortice, rotando su se stessa e colpendo i nemici attorno a lei. Ci interessano però i talenti e cominciamo dalla salva cristallina, che è l'abilità elementale. Ottimo che ci spiega che cos'è questa cosa qui che vediamo attorno, vicino a Navia. Vediamoli come proiettili, sono effettivamente i proiettili che carichiamo all'interno del nostro ombrello fucile. Cosa dice? Che quando un personaggio del gruppo ottiene un frammento elementale generato dalla cristallizzazione, infatti se vedete prendiamo il cristallo che si è generato dal contatto del geo con l'elemento hydro, e quindi viene rilasciato questo cristallo hydro. Quando prendiamo questo cristallo hydro ci compare uno scudo. In questo caso, Navia riceve un accumulo di bossolo di cristallo, fino a un massimo di 6 bossoli. A ogni accumulo, ottenuto, la durata degli accumuli già in possesso viene ripristinata, perché ogni volta che facciamo un accumulo questo proiettile ha una durata. Se questa durata finisce, ovviamente il proiettile sparisce. Se però ne prendiamo uno nuovo, questa durata del proiettile si ripristina e quindi possiamo andare avanti. Come vedete, i primi 3 proiettili sono più piccoli. Possiamo arrivare a 6 e, quando arriviamo a 6, gli altri proiettili aumentano di misura. Quando spara, Navia consuma tutti gli accumuli e apre il suo elegante e letale piombrello, scagliando proiettili di cristallo di rosola e in grado di penetrare gli avversari e infliggere danno da geo. Quindi, noi praticamente, come vi dicevo, prendendo i cristalli stiamo caricando i proiettili all'interno del nostro fucile ombrello. Quando abbiamo questi proiettili, da 1 a 6, possiamo consumarli per fare danno geo al nemico. Quindi spariamo danno geo al nemico che vogliamo colpire. Quando vengono consumati da 0 a 3 proiettili, 0 non credo che si possono consumare, però comunque, quando vengono consumati fino a 3 proiettili o più accumuli di bossolo e cristallo, Navia spara rispettivamente 5, 7, 9 e 11 proiettili di cristallo di rosola. Maggiore il numero di proiettili che colpisce un avversario, maggiori sono i danni subiti da quest'ultimo. Giustamente, più spariamo, più facciamo danni. Mi sembra abbastanza ovvio come cosa. Quando tutti e 11 i proiettili colpiscono, viene inflitto un 200% della quantità di danno originale. Quindi, diciamo che l'ideale sarebbe sicuramente accumulare tutti e 6 i proiettili. Ovviamente, dipende di quanto tempo ci mettiamo, perché, secondo me, è una cosa che va cercata di farla nel breve tempo possibile. Quindi, generare quanti più cristalli, quanti più cristalli della cristallizzazione, i frammenti della cristallizzazione, così che carichiamo velocemente il nostro fucile e spariamo il massimo dei proiettili, perché così otteniamo il massimo del danno che possiamo effettuare su un nemico. In più, quando Navia consuma più di 3 accumuli di bossolo e di cristallo, ogni accumulo successivo al terzo aumenta i danni inflitti dall'attacco del piombello di un 15% aggiuntivo. Questo ci dimostra ancora di più che è davvero importante accumulare quanti più bossoli possibili. Beh, mi piace questa cosa. Praticamente, con Genshin 4.3, tra lei e Shevros, che spero che ci metteranno presto qualche informazione, abbiamo inserito gli sparatutto su Genshin. Perché, proprio, cioè, noi stiamo veramente andando a combattere, caricando i nostri proiettili, sparando ai nemici. Quindi, fantastica sta cosa. E, più o meno, è quello che poi faremo anche col tripudio elementale. Però, continuiamo ancora sulla salva cristallina, perché abbiamo anche la pressione prolungata. Perché questa qua era la pressione classica. Però, come vedete, abbiamo anche la pressione prolungata, che ci permette anche di mirare il nemico. Infatti, entriamo in modalità di mira, raccogliendo continuamente i frammenti elementali generate dalla reazione di cristallizzazione. Come vedete dall'animazione, quando lei entra in stato di mira, automaticamente i cristalli che sono attorno, cioè i frammenti della cristallizzazione, vengono attirati. Cioè, lei li attira verso di sé. Figata assurda. Quando l'abilità viene rilasciata, spara dai proiettili di cristallo di rosola, con lo stesso effetto di quello che abbiamo visto prima. L'abilità ha due terizzi inizialmente disponibili. Questa cosa qua non l'ho capita. Questa cosa qui ha due terizzi inizialmente disponibili. Non l'ho ben capita. Comunque è bello, perché se abbiamo generato diversi cristalli, ma sono un po' distanti, perché comunque se vedete c'è una leggera distanza che comunque ci fa perdere del tempo per andarle a prendere, noi possiamo fare la versione prolungata, attiriamo tutti i cristalli verso di noi, che automaticamente ci vanno a caricare la nostra... ci vanno ad aumentare la nostra ricarica dei proiettili, e quindi a quel punto possiamo consumare tutti i proiettili e fare direttamente il massimo dei danni che abbiamo visto nella versione classica. Carino, ci sta. Io penso che la versione prolungata non è che ci dà... a parte la mira e il magnetismo sui frammenti, non è che ci dà qualcosa in più. Quindi io penso che la differenza tra utilizzare la versione click e bust, oppure la versione click e prolungato, è in base a quanti cristalli abbiamo. Se abbiamo già tutti i cristalli, possiamo anche sparare direttamente. Però avremo la mira automatica, cioè colpirà direttamente, penso, il nemico più vicino. Invece, se, per esempio, non abbiamo ancora tutti i cristalli o vogliamo colpire un nemico specifico, allora ci conviene la modalità di mira. Però, a livello di danni, non cambia niente. Fanno gli stessi danni. Ovviamente ci viene detto che lei utilizza l'arc, in questo caso Osea, quando Navia spara col suo più ombrello, a denomani intervalli, evoca una lava nascente che infligge danni da Geo di priorità Osea. Vabbè, questo qua era abbastanza ovvio. Tutti i personaggi di Fontaine hanno comunque l'arc. Che in questo caso lei c'ha l'arc Osea. A questo punto, passiamo al tributio elementale. Tributo del Sole Luminoso. Altro sparatutto, in questo caso cannonate totale sui nemici. La presidentessa della spina di Rosola ordena l'esecuzione il triunfale saluto della Rosola adorata. Scatena un devastante bombardamento sugli avversari di fronte a lei, infliggendo danni da Geo ad aria e fornendo fuoco di supporto con i suoi cannoni per una certa durata, infliggendo periodicamente danni da Geo agli avversari nelle vicinanze. Quando gli attacchi dei cannoni del saluto d'oro sulla dorata colpiscono gli avversari, Navio ottiene un accumulo di bossolo di cristallo. Questo effetto può attivarsi una volta ogni 2,4 secondi. Oltre a fare il danno Geo sui nemici, va a caricarci automaticamente i proiettili per riutilizzare nuovamente la nostra abilità elementale. Nel momento in cui attiviamo questo tripudio, come vedete, inizia a esserci questo bombardamento sui nemici. Non è un colpo su un nemico singolo, in questo caso ce lo fa Fedeli contro un nemico singolo, quindi è tutto su di lui. Però se abbiamo più nemici, in realtà ci sarà un'area e quei nemici in quell'area verranno colpiti periodicamente un po' tutti quanti. Quindi non è su un singolo personaggio, ma è ad aria, nelle vicinanze, gli avversari nelle vicinanze. Io immagino, io credo che, adesso vediamo anche i passivi però, l'utilizzo di Navia potrà essere, faccio i suoi attacchi, faccio le sue cose, cerco di generare i cristalli, i frammenti della cristallizzazione e li raccolgo. Se li ho a sufficienza, utilizzo la mia skill. Dopo aver utilizzato la skill, faccio la burst, faccio il tripudio, in modo tale che mi vado a ricaricare nuovamente i miei cristalli, i miei proiettili, e poi li utilizzo un'altra volta la skill per consumare i proiettili, in modo tale così facciamo danno potenziato, ancora altro danno, ricarichiamo ulteriore danno con la nostra abilità mentale. Credo che questo sia il giusto utilizzo di Navia, però poi vedremo meglio. Per quanto riguarda i talenti passivi, ovviamente purtroppo ce ne dice solamente uno, però vabbè, vediamo cosa ci dice. Canale di distribuzione segreti. Per 4 secondi dove aver usato salva cristallina, i danni inflitti dagli attacchi normali caricati e impicchiata di Navia, vengono convertiti in danno da geo, che non possono essere contrastati da altre infusioni elementali. Inoltre, i danni inflitti dagli attacchi normali caricati e impicchiata di Navia, aumentano di un 40%. Ok, questo talento passivo è più o meno per farci capire il fatto che vi dicevo prima che io utilizzo l'abilità elementale, poi il tripudio, poi utilizzo l'abilità elementale di nuovo, cioè, dopo il tripudio mi sto ricaricando un'altra volta il fucile. Questa cosa qua è buona perché così io riesco a fare danni geo e attacchi normali e quindi generare frammenti di cristallizzazione e a quel punto continuare a caricarmi velocemente i proiettili per la mia abilità elementale. Io immagino anche che le costellazioni, soprattutto tipo le prime costellazioni a questo punto, spero le prime perché se mi mette questa cosa nelle ultime è un po' scam, spero, credo e spero che le prime costellazioni si baseranno sui proiettili. Secondo me o potremo ottenere proiettili in più oppure tipo ricariciamo più velocemente i proiettili, qualcosa che ha a che fare con i proiettili. Sono abbastanza convinto di questo perché quando uscirà il personaggio vedremo. Però, secondo me, dato che il personaggio come vediamo si baserà davvero tanto sulla abilità elementale, le costellazioni saranno molto basate su questo aspetto e poi ovviamente ci saranno le costellazioni sul tripudio. Credo poi che il talento passivo secondario sarà sul tripudio. A questo punto io farei una sorta di pre-analisi build del personaggio poi ovviamente faremo un video specifico per lei appena possibile però secondo me questo personaggio può essere che tutto si builda sicuramente come main dps da quello che abbiamo visto agisce sul campo non può stare fuori dal campo quindi è palesemente main dps e basta. Io credo che su delay potremmo utilizzare sicuramente il nuovo set farmabile sicuramente quello sarà il set migliore che possiamo utilizzare su delay o comunque uno dei migliori set che possiamo utilizzare su delay perché ci dà il bonus di attacco e poi ci dà un bonus su danno geo durante l'abilità elementale e quando otteniamo i frammenti di cristallizzazione quindi capiamo bene che il set sarà perfetto per lei in quattro pezzi altrimenti probabilmente potremmo fare la classica combinazione di artefatti che si dà ai personaggi geo dps geo dps come ninguang però attenzione che si basano probabilmente sull'attacco percentuale anche perché secondo me questo personaggio da quello che abbiamo visto non sarà basato sulla difesa sarà basato probabilmente sul classico sulle classiche statistiche di dps attacco percentuale rate damage aspettiamo la conferma definitiva ma tutto ci fa pensare a questa particolarità oltre al set nuovo potremmo pensare di darle due pezzi che ci danno attacco percentuale due pezzi che ci danno danno geo bonus cosa che ritengo non possibile ma mettiamo caso allora potremmo poi eventualmente pensare di dare un set come l'ask come quello che diamo a itto però secondo me non sarà così probabilmente sarà attacco percentuale tasso da crate danno da crate credo che quelle saranno proprio le statistiche che noi dovremmo darle quindi attacco percentuale come dps come danni rate damage da dps quindi sui 60-180 almeno sarebbe sicuramente l'ideale la ricarica di energia vediamo perché dipende quanto costa il tripudio e effettivamente quanto tempo ci mettiamo noi a ricaricare il tripudio quindi questo è da vedere probabilmente almeno un 125-130 servirà in realtà probabilmente potrebbe anche funzionare col set del maraciusse però non ne sono sicuro è da studiare un po' potrebbe anche funzionare col set del maraciusse un altro set due pezzi però che potrebbe andare bene per navia insieme a poi geodamage oppure attacco percentuale eccetera potrebbe essere il compagnia dorata perché ci permette di avere il bonus sul danno dell'abilità elementale quindi quello pure potrebbe essere un buon mix quindi due pezzi e due pezzi ad esempio di archaic pietra per quanto riguarda le armi io credo che sicuramente l'arma migliore 5 stelle sarà l'arma che uscirà con lei altre armi 5 stelle potremmo darle la la wolf gravestone penso che potremmo darle anche l'arma di deia che ora non mi ricordo il nome scusatemi beacon qualcosa tanto ve la metto qui la vedete e ve la metto nello schermo quella la pure potrà andare bene la unforged ci sta perché ha il bonus sullo scudo quindi pure quello lì pure quell'arma è un'arma valida per lei e probabilmente se la ricarica di energia sarà anche una statistica che ci serve la skyward lo spadone skyward pure potrebbe essere utile per per quanto riguarda navia invece per quanto riguarda le armi 4 stelle sicuramente andiamo sull'arma del battle pass la serpent spine però parlo anche se pure quella nuova sempre del battle pass potrebbe essere una buona arma l'arma dello shop la black cliff pure va va bene sicuramente soprattutto anche per la statistica principale e in generale comunque tutte quelle armi che ci daranno attacco percentuale come statistica sempre valutando il fatto dell'attacco percentuale questo otteniamolo ancora un po' con le pinze l'attacco percentuale danno da crit tasso da crit comunque armi offensive in generale comunque navia sembra molto interessante secondo me è un gameplay divertente questa aggiunta dello sparatutto delle armi da fuoco in maniera concreta devo dire è molto carino e non vedo l'ora di provarla e vedere effettivamente poi come la utilizzeremo perché immagino che l'utilizzo nei team sarà diverso dai classici geo perché andremo a basarci sulla generazione dei frammenti di cristallizzazione quindi sarà necessario fare reazioni con altri elementi e quindi potremo inserirla praticamente non di ovunque però con diversi buffer rispetto a come si faceva attualmente con altri personaggi geo in cui andiamo a basarci di più sul team mono geo comunque composto da tanti geo mentre invece con lei sarà essenziale inserire altri elementi anche più di uno probabilmente che vadano a farci generare velocemente il più possibile questi frammenti che utilizzeremo poi per sfruttare la sua abilità elementale quindi molto interessante il suo gameplay io sicuramente la prendo e potrebbe essere un personaggio che non dico che rivoluzione geo ma che porta un albore nuovo a questi personaggi bisogna vedere poi ovviamente le statistiche i dati effettivi sulla mano vabbè questo poi lo vedremo tra poco fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di Navia se vi piace come personaggio se lo prenderete oppure non vi interessa e passerete avanti poi in futuro si vedrà mi raccomando se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così non vi perdete i miei prossimi video vi aspetto anche live su twitch dove passiamo le nostre serate in compagnia e vi aspetto anche sugli altri social come instagram mi trovate sempre come dei zoom grazie mille per aver visto questo video e noi ci vediamo con il prossimo ciao